Esposizione. Casa, scuola. Ogni luogo ne è pieno. Affanno, ansia, si avvicina il veleno. Paura, sgomento, palpita il cuore come un treno. Bullismo, discriminazione, davvero temo. Lenta scivola la mano, malvagia ed infida, spasmodicamente tremo. Verbale, psicologica, fisica, violenza all'estremo. Denigrato, massacrato, fremo. In rivoli frammentari le parole uscivano di bocca. Era vittima di bullismo.